E la sera del 21 agosto, una sera come le altre sull'isola d'Ischia, è lunedì. Una manciata di giorni e l'agosto 2017 finirà, non certo l'estate, che è ancora vivissima. Si lavora a ritmo serrato perché i turisti sono davvero tanti. Sull'isola un boom di presenze come mai da tempo si era registrato. Anche per il settembre, che è alle porte, è provisto l'overbooking. È la sera del 21 agosto e mancano pochi secondi alle 21, orario di scena per molti. Fa davvero caldo, stare fuori è quasi necessario. Le finestre sono aperte, anche le porte di casa. Chi può sta in giardino. Ci si lamenta dell'AFA che non vuole andare via. Poi un boato, la corrente elettrica salta, la terra trema per 10 secondi. 10 secondi e la vita per 3.000 persone cambia. Per due finisce. Muoiono due donne, l'ischitana Alina Balestrieri, 59 anni, e Marilena Romanini, 65 anni, in vacanza sull'isola. Tre bambini prematuramente fanno i conti con una catastrofe troppo grande per loro. Sono fratelli e stanno giocando quando la casa gli crolla addosso. Saranno salvati dai vigili del fuoco, ma il terremoto se lo porteranno sempre sulla pelle. Il piccolo Pasquale, di appena sette mesi, viene estratto quasi subito, mentre Mattias, 8 anni, e Ciro, 11 anni, trascorreranno la notte e parte del giorno successivo sepolti tra mura e polvere, tenendo con il fiato sospeso gli italiani che seguono lo sviluppo delle operazioni di salvataggio in tv o sul web. La scossa del 21 agosto si è sentita sull'intero territorio solano, ma in maniera diversa. Quasi impercettibile in alcune località come Ischi e Barano, in tutta la sua forza altruve. Però è soltanto nelle zone collinari di Casamiccio dell'Acquameno e una piccola parte di Forio che si contano i danni. Il sisma distrugge le case di Piazza Maio, della Sentinella, della Rita, di San Pasquale, del Fango, della Borbonica. E mentre i porti dell'isola vengono presi d'assalto dai vacanzieri che fuggono via terrorizzati e i comuni, non toccati dal terremoto, si preoccupano per i danni economici causati dall'onda mediatica, a Casamiccio la Alta e al Fango si scava tra le macerie. C'è chi viene salvato dai vigili del fuoco, chi si libera da solo. Il terremoto ha fatto solo due vittime e sembra un miracolo. Nell'immediato ci si rallegra per essere vivi. Poi, passato lo shock, ci si rende conto che si è perso tanto. In alcuni casi tutto. E comincia il dramma di essere sfollati. Torna dunque la paura del sisma. Ieri sera è stata colpita Ischia. Ci sono stati i crolli, i vittime, dispersi. Per ora sono due, i morti, due donne. Ieri sera intorno alle 20.57 c'è stata una scossa di magnitudo 4.0 che è stata eseguita poi da 14 repliche successive che hanno provocato una vittima nella chiesa di Santa Maria del suffraggio e ha visto coinvolti i comuni di Casamicciola e Lacameno. Paura e gente in strada ad Ischia per una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 con una profondità di 10 chilometri che ha fatto tremare l'isola Campana alle 20.57. Nella zona di Ischia Porto c'è stato anche un blackout elettrico. Molti turisti e abitanti spaventati si sono riversati fuori da case, ristoranti e alberghi. A seguito della scossa di terremoto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile presso la sede del Dipartimento. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è in contatto continuo con la Protezione Civile e con le istituzioni territoriali campane per seguire gli sviluppi. Mattia dalle macerie. Ecco, abbiamo sfogato volutamente, è Mattia che viene tirato su dai vigili del fuoco e viene passato poi ovviamente e morbidamente adagiato su questa lettiga gialla che serve, come ricordava Casinghini, a minimizzare quelli che possono essere eventuali danni o fratture. È passato più di un mese dal terremoto di Casa Micciola, ma per chi abitava qui da tanti anni è difficile lasciare la zona, per una questione proprio emotiva, sentimentale. Quindi sono in tanti che ogni giorno vengono qui in Piazza Maio proprio per vivere nel luogo dove hanno sempre vissuto e che drammaticamente hanno dovuto lasciare. Ci facciamo raccontare la loro esperienza, quella tragica notte, che cosa hanno vissuto e poi gli chiediamo qualche altra cosa, insomma, quali sono le speranze. Allora cominciamo col fatto, quella notte. Col fatto di quella notte che siamo usciti tutti fuori, per fortuna, ci siamo salvati, nessuno si è fatto niente, grandi e piccoli, non lo so chi ci ha protetti, quale santo ci ha protetti. Comunque siamo qui e questo luogo non verrà mai lasciato. Non solo abbiamo le nostre case, per quanto siamo cresciuti, abbiamo cresciuti figli, nipoti, per noi è la nostra vita e non lo lasceremo mai. Voi che cosa vi aspettate adesso? Cioè quali sono proprio le attese, le aspettative e anche diciamo le speranze? Le nostre speranze sono tutte quelle promesse che ci hanno fatto, che vengono mantenute. Hanno detto che ci davano un aiuto autonomo per le case, non lo sappiamo se è vero o non è vero. Poi ci stanno dicendo che si può fare una domanda per avere un aiuto, per aggiustare le case, per alzare queste parracine, non so se ci sta qualcosa di vero oppure sono parole. La vostra casa ha avuto gravi danni? Dentro sì, all'interno. La struttura in generale no, sta bene, però all'interno purtroppo come tutte le case si deve aggiustare e così stanno le cose. Allora la tua esperienza, tu che cosa hai provato quella sera? Ti sei accorta insomma subito che si trattava di un terremoto? C'è poco da capire, insomma, siamo scappati, sì, insomma era evidente che era un terremoto, non c'era da pensarci. Niente, comunque secondo me c'è stato anche un po', io dico anche un po' un piccolo miracolo generale, perché siamo stati tutti fortunati a trovarci nel posto buono, chi era appena uscito fuori al terrazzo, chi si è trovato lontano da dove sono cadute le pietre, come me per esempio, quindi siamo stati tutti fortunati, perché il vuoto è stato forte. Io dico sempre che se durava qualche secondo in più, non lo so, lascio il punto interrogativo. Allora voi ora state vivendo in un'altra zona, giusto? Però ogni giorno siete qui in piazza, è una questione proprio sentimentale oppure? Sì, va proprio, sì, sì, io vengo sempre. Mi sono trasferita perché comunque ho famiglia, ho figli, abbiamo bisogno di un posto, di una casa, di un tetto, però io vengo sempre qui, a parte che ci sono i miei genitori, c'è mia zia, ci sono gli amici, c'è la mia casa, è vero sempre. Voi lotterete per la ricostruzione di Piazza Maio, di Casa Micciola Alta? Sicuramente, sicuramente, qui ci sono tutti i sacrifici, non tanto i miei ma di mio padre, quindi penso che comunque tutta l'isola è sismica, quindi l'importante è fare le cose in un certo modo, aggiustare le case in un certo modo, con criterio e entrarci con tranquillità, cioè, devi entrare in casa e stare tranquilla che la casa comunque è stata sistemata bene, aggiustata bene, fare le cose con criterio. Quella sera dove vi trovavate quando c'è stato il terremoto? A dieci metri, seduto sulla panchina. Stavate all'esterno? Stavo io, il cane e mio nipote. Che cosa avete sentito, percepito? È stato un po' che è durato pochissimo, per fortuna, e poi tanta polvere. Essendo un responsabile della protezione civile, la prima cosa che ho fatto, la gente che è uscita dal ristorante a altri posti, li ho raggruppati in questo posto. Poi, assieme a un altro paio di persone, abbiamo liberato la strada dove è crollata questa abitazione per far passare i vari soccorsi. La mia delusione è più di una. La prima, tanti mezzi, dei vigili del fuoco, che non so per quale motivo, dove tutti sanno che hanno lavorato quelle poche persone per salvare quei ragazzi. La seconda, noi siamo nati qui. Abbiamo fatto una vita. Io, come tante altre persone, qui è il raduno dove abbiamo giocato, da ragazzi, da vecchi, anziani, come vogliamo dire. Ci raduniamo. La turi, va. Ci raduniamo per fare, per raccontare le nostre storie, le nostre chiacchiere. E dal primo giorno ci volevano buttare via da questa piazza. Nessuno ci hanno tirato, tutti contro. Tutti. Tutti. Carabinieri, polizia e vigili dalla mattina alla sera. Le autorità locali di ogni specie, di ogni ranco, ogni giorno ne veniva una per dire voi qua state nella zona rossa. Osservate un po' la situazione. Noi stiamo all'aria aperta, non diamo fastidio a nessuno. Però vogliamo cercare di non far morire questo posto che è una vita. Questa è la vecchia parrocchia distrutta nel 1883. Non diamo fastidio a nessuno, però vogliamo che questo posto non muore, come sono morte decine di abitazioni. Noi vogliamo che questo posto non muore, ma loro stanno facendo tutto il possibile per far morire questa zona. Quanti siete che state combattendo per la salvaguarda? Noi qua ci riuniamo maggiormente a ora di pranzo e la sera è 20, 30, 40 e facciamo una chiacchierata. Mangiamo qua, cuciniamo qua, mangiamo qua e ci riuniamo e raccontiamo le nostre storie, le nostre chiacchiere, le nostre bisticciate. si parla della ricostruzione, si parla degli sperferi dei soldi che stanno facendo, sperferi perché mettere in sicurezza un muretto di due metri che ci si impiega una settimana per metterlo in sicurezza dove per farlo ci vogliono 24 ore, secondo me sono solo sperferi di soldi. nostri, degli italiani, questa è una cosa che io non condivido, sono allibito, non capisco perché si possono risolvere i problemi differenti. Queste abitazioni qua, guardate qua di fronte, sono abitabili, sono abitabili, non le lasciano abitabili, la gente deve andare a vivere, la gente deve andare a casa a pagare il picione a un'altra parte dove queste case sono abitabili, essendo che la strada sta in zona rossa, la strada dice non si può andare, ma scusate ma perché è giusto tutto questo, pagare in albergo non so quanti soldi dove questa gente potrebbe stare benissimo in casa sua, perché dove sta questa abitazione qua, non c'è nessuna abitazione vicina pericolosa, allora cerchiamo di controllare queste cose, quando è che si pigliano queste iniziative? Siamo a un mese e mezzo. Le case che hanno subito dei danni e anche quelle che non hanno subito, lui le ha viste proprio crescere, anzi ha contribuito. Io abito dal 1954 a Piazza Mai, questa che vedete è la piazza, qua sotto c'era la chiesa di Santa Maria Valdaleva, qui quando io ero ragazzo c'erano tutti i legnali, per terra, sotto c'è un cimitero, qua ci sono i morti di sotto, nessuno lo rispetta. Questa casa, Pizzeria Caterino, l'ho fatta io, con la ditta che lavoravo, quella da ragazzo l'ho vista a Naccio, quella l'ho vista, ho lavorato anche quando l'hanno costruito, quella pure l'hanno costruito prima di questa. Quella è la mia abitazione, dei miei famigliari, mio padre e mia madre, qua non c'era niente, nessun tipo di casa, quella casa là c'era, quella bianca, dall'altro lato. Questa è la vecchia chiesa di una volta, di fronte, quella era la congrega, e questa è la piazza Mai, c'era qualche altra abitazione, questa, di sopra non c'era, c'era una sprovendo, sotto c'era la saloperia e il bar, e sopra non c'era niente, poi l'hanno costruito, dietro c'è una strada che si sale sopra, si chiama via Epomeo, dove c'è la pensione Magno. Io abito a via Epomeo, per colpa di questa casa non posso salire, perché non la mettono, non puntellano, non fanno niente per lavorare, e una persona non può salire sopra. Che si prova a vedere una zona che si è vista sorgere, poi un po' distrutta? No, quella l'hanno fatto distruggere loro, perché questa è una zona che si può riprendere, ma sono loro che non la vogliono fare più, capito? Questo è il fatto, noi siamo in mezzo alla strada, tutti quanti per colpa loro. Voi, Presidente, insomma, state qui insieme con gli amici? Comunque venite qua per una questione affettiva. Mi sono trovato per caso, perché quel pezzo esterno, nero, quella è la mia abitazione, e mi devono smontare quel mondo, perché dicono che è pericoloso. Cioè, mi devono smontare una stanza, e io ho pulito per fargliela smontare, e devono mantenere tutta la parete intorno, devono chiuderla, perché dici che è pericoloso. Ma per me sta bene, perché quello è un muro da 60, sotto i 80, sopra i 60, e quell'altro di sopra i 50. Vogliono fare così, fanno così. Dicono che la buttano a terra, fanno prima. C'era anche chi, non so se per fortuna o per sfortuna, quando è successo il terremoto, non era qui a Casa Micciola. Quindi la brutta notizia l'ha avuta per telefono o per telegiornale. Allora, io purtroppo mi trovavo fuori a Mallorca, perché mio fratello ha avuto un grave incidente, sta in coma. E quel giorno mi avevano detto che mio fratello stava un poco, poco, poco meglio, non rischiava di morire nella notte. Dovevo essere un poco più felice. Invece quel giorno ero tanto triste, ma tanto triste. Se vi faccio vedere sul WhatsApp due fotografie, una della settimana prima e una di quel giorno, mi sembrava una vecchia di 100 anni. Dissi a mia cognata, io oggi sono triste. Arrivate a casa dall'ospedale, apro un poco sul telefonino, così per avere un contatto col paese, per distrarmi un poco. In evidenza, in primo piano, terremoto a casa Micciola. Mettetevi nei miei panni. Oh, mamma mia! Ho cercato di contattare mio figlio e non mi rispondeva. Ho tentato di contattare mio marito, mia sorella. Nessuno del Maio mi rispondeva al telefono. Quindi voi avete pensato al peggio? Io ho pensato subito al peggio e non mi rispondeva nessuno, perché mi hanno detto che i telefonini si sono bloccati in questa zona. E allora io ero agitata. Allora mia cognata ha telefonato alla sorella che si trovava a Berlino. E da Berlino abbiamo avuto la brutta notizia che sì, era caduta una casa a Piazza Maio. Ho detto, mamma mia, quella è la mia casa che è la più vecchia. Le sono cadute anche altre, però io avevo un cattivo presentimento. E dopo qualche ora sono riuscita a mettere, erano le nove e mezza, verso le undici, undici e mezza sono riuscita a mettermi in contatto. E mi dicevano da qua, c'era un vociare, secondo me mio marito stava in piazza insieme a tutti gli altri, mi dicevano non di preoccupare, siamo tutti vivi, non è morto nessuno. E io ho detto, passatevi mio marito, mi hanno passato mio marito, mi hanno passato mia sorella, però non mi passavano mio figlio. E io ho detto, Agostino dove sta? Dice, no, Agostino si è fatto un pochino male, ma una piccola cosa, scendendo la scala, mi hanno detto, scendendo la scala, si è fatto qualche graffio e l'hanno portata all'ospedale. Non mi hanno detto che era caduta la mia casa, mi hanno detto scendendo la scala. E io fino alle due sono stato avuto attacchi di panico. Allora mi sono calmato un poco, quando ho sentito la voce di mio figlio, ha detto, mamma, sono vivo e sto bene. Però vostro figlio, raccontiamo, non era caduto dalle scale. Che era successo? Mio figlio non era caduto dalle scale, mio figlio erano le nove, e si accingeva a fare la doccia, perché poi doveva andare a cena con degli amici. La cosa più grave è che siamo scossi, mia figlia è scossa, che cinque minuti prima, in quella stanza dove ci sta quella persiana piccola, la stanza da pranzo, c'erano anche i miei due nipotini, i quali erano andati a prendere lo zio per dire, zio, viene alla festa di compleanno di un parente? E mio figlio ha detto, no, Adriana, lo zio non viene perché vado con gli amici, già avevo programmato una cena con gli amici. E mio figlio stava in mutanda e in maglietta, perché si doveva fare la doccia. E però, siccome gli piace molto uno spettacolo che fanno per televisione, per Canale 8, i quattro ristoranti, quello con Borghese, si è seduto cinque minuti, ha detto, ma mi vedo prima questo programma, e poi mi faccia la doccia. Il tempo di sedersi si è trovato in un baratro, si è trovato in un baratro, perché lui è caduto, il divano è caduto, però non è che è caduto dritto, perché là non è che è caduto tutto, è caduto il centro, per cui il divano è caduto in perpendicolare, non in perpendicolare, ma di sbiego, per cui a lui è sembrato, e quindi avrà fatto un sei metri, e gli è sembrato di essere sprofondato nel centro della terra, al buio, perché le luci si sono spente subito, e allora lui diceva, oh mamma mia, e ora come faccio ad uscire da sottoterra? Guardava in alto una luce, ma non vedeva niente, perché era tutto buio. Da questa stanza, guardate di fronte, lui è caduto giù, c'era un negozio, però era chiuso, era tutto pulito, e ha visto una luce, ma la luce è una luce che gli è venuta dall'alto, perché lui ha visto una porta che si trova dietro, lui anche con le luci accese, quella porta non la può vedere, sta dietro, e allora quella porta gli ha dato l'orientamento, per cui è scappato di là, è scappato da quell'altra porta, e lui ha detto che spingeva da dentro, e qualcuno da fuori l'ha aiutato ad aprire le salacinesche per farlo uscire. Lui uscendo, era libero, non ha trovato calcinacce a terra, i calcinacci stavano nella prima stanza, lui è uscito, è caduto il secondo solaio, questione di secondi, le avrebbe avuto addosso, e sarebbe morto. E allora quando l'ha raccontato al nostro parroco Don Cino, dice, perché poi sono coetanei, dice, quanto ci hai messo a uscire fuori, quanto ci ho messo, secondi. E c'è anche, diciamo così, un matrimonio che si rinnova, perché tra le tante cose che sono state perse qui a Casamicciola, a volte si perde la fede, ma il signor Parisio l'ha ritrovata, adesso la consegna. L'unica cosa, ho perso tutto, l'abbigliamento, le camicie, le cose intime, ho salvato solo questa fede, che dopo, a mia voce, ha fatto qualcosa che non doveva fare, per trovarla. Signor Parisio, lo so che questo è un momento emozionante, questa piazza tra l'altro si chiama come voi. Perché si chiama come voi? Perché io ho fatto diverse proposte all'amministrazione, le amministrazioni passate, di intitolare delle piazze, delle strade, ai quattro sindaci precedenti, precedenti a me, della Prima Repubblica, io sono il quinto e l'ottavo sindaco. Quindi, scherzando con gli amici, dicevo, guarda, voi dovete intitolare al commentatore Castagna la strada che sta sul porto, e poi dovete intitolare a Vitale, Vitale, Dottore Vitale, i Viali, e al primo sindaco, Dottor Raffaele Monti, la piazzetta dove stanno adesso la gelateria di massa. Allora loro dicevano, e a te che ti dobbiamo intitolare? Allora, vabbè, dissi, io sono nato a Piazza Maio in quella merceria, dove adesso hanno fatto la merceria, una stanza, mio padre aveva avuto dopo una litte con, un contenzioso, con il suo secondo padre, diciamo, una stanza, un bagnetto e una cucina. io sono nato a Piazza Maio, quindi dissi ai miei amici, io voglio che metà piazza è parissima. Allora loro hanno scritto per scherzo, questa piazza, dicono, te la intitoliamo, non ti preoccupare, vabbè, ma non te la possiamo intitolare, ma tu devi morire, dopo dieci anni te la possiamo. Vabbè, allora fecero uno scherzo e scrissero Piazza Maio, piccolo piccolo, poi è venuto un altro amico, te lo scrivo io, la piazza più grande, e mi ha scritto. Signor Parisio, le mura sono, diciamo, così pericolanti, oppure comunque sono rovinate, ma lo spirito di Piazza Maio vive? È unito, e ci siamo, molte famiglie rappresentanti, molte famiglie che stiamo dicendo che dobbiamo ricostruire, perché noi sappiamo, dalla nascita, che conviviamo con il terremoto, nella zona alta del Casamicciana, c'è stata sempre piccola scossa, questa scossa non ce l'aspettavamo. Rinascerà a casa Micciolalta? Credo di sì, rinascerà e abbiamo fatto, se la faranno rinascerà. No, abbiamo fatto anche una proposta attraverso mio figlio, che è a Iago Agostino, ed altri ragazzi della zona, perché hanno incontrato uno, un ingegnere greco, che sta alla Comunità Europea, dicendo, poiché è un piccolo borgo, le istituzioni chiedono alla Comunità Europea di fare un borgo sismico, modello, che vale per tutta l'Europa, e quindi ricostruire sismicamente. entramene, e se未 logne,